Musica Vedi, punta di palco Ed è il primo che è Orlandini con il tricamore questo paracadute con questo lancio perfetto vedete e vi un grande e grande abbraccio a Orlandini che avverrà Sintero Questi strumenti di precisione, sono ben grossi, dico Tari e Tempegne. Troppo, ho girato troppo prima. Spostiamo un po' più avanti. Ecco, Gervasoni, mille lancia l'attiva che vuole a questa posizione. Tavola è piccissimo, eccolo. Tavola è attesa di Tavola, ecco Tavola che prende un'altra via, una curva larga. Ricordiamo Tavola il sottore. Troppo, mi piaceva proprio qui vicinissimo, alla freccia, ed ecco il lancio dell'arrivo di Tavola. E quindi, noi facciamo di nuovo un applauso ai paracautisti di Grecia. Ciao. 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 Qui abbiamo Brumano, più di mille lanci con il tricolore che rappresenta questi 150 anni dell'Unità d'Italia e questa festa di palacuolo sull'arrivo della seconda della gruppa del Colfini. Si sta avvicinando. Perfetto. Siamo in attesa di Azzoni. Anche questo, un atleta che partecipa a gare... Si fa la cadotismo con la più di mille lanci. Azzoni. Troppo alto Azzoni. Ecco. Aspettano tutti gli altri. Un atleta che perfetto. Piero che torbola. Bravo. Sicilissimo. Perfetto. Adiattoli. Ricordo che è facile, ma non è facile, arrivare con i piedi, e soprattutto in piedi, basta pochissimo, perché c'è anche da controllare il paracadute. Qui vedete proprio la perfezione. Soprattutto il controllo perfetto del paracadute. Ecco Calma. Che con Calma... Ci è vicinissimo. Un applauso e perfetto. Soprattutto la parte del paracadute. Chi si è vicino...